Musica Amici di Telemolise, di Viaggio in Molise, oggi il nostro viaggio si ferma in un campo vicino Ielzi, quello scelto per la tradizionale mietitura in onore della festa di Sant'Anna. Oggi sarà una festa, una giornata fatta di canti e musica, tradizione e fede, origini e terra. Seguiteci! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Antonio Valiante, come vive questa festa per la prima volta da Presidente? È un compimento di un sogno, uno potrebbe dire, nel senso che ci sono stati vari momenti di passaggio, poi alla fine è arrivata questa nomina da Presidente. Ringrazio tutti, è un onore perché fondamentalmente rappresentare un comitato in Molise che ha 200 anni di età è veramente qualcosa che mi onora. Come vive questa festa quest'anno rispetto agli scorsi anni? Una piccola differenza, un po' di lavoro in più. Un po' il legame con la tradizione in fondo, il legame con i nostri avi, i nostri nonni che ogni mattina in estate si alzavano per andare a mietere. In fondo, simbolicamente, questo grano ci rappresenta e quindi non vorremmo far cadere questo simbolo, questo grano di Sant'Anna. E quindi speriamo di continuare così per tanti altri anni. Ecco, il grano è un po' il simbolo della rinascita, un cereale che sta sottoterra e poi appunto nasce ogni anno. Sì, la Bibbia ci insegna questo ed è così. In certo qual modo bisogna annullare il passato, recuperarlo, riviverlo sotto una forma nuova e questo significa rinascere. E quindi noi ogni anno ci sforziamo di portare avanti questa idea, questa filosofia, possiamo dire comunitaria. Oggi c'è stata la mietitura, la mietitura tradizionale. Come continuerà la festa il 26 luglio? Oggi abbiamo fatto questa rievocazione della mietitura con i maniconi, con le cannelle, la falce. Adesso arriveranno i mietilega e i carri che caricheranno il grano che mieteremo per essere intrecciato poi durante il periodo che precede Sant'Anna. Lo porteremo nelle varie postazioni in modo che possa essere intrecciato pronto per la festa. La festa sarà un po' come tutti quanti gli anni, sarà una festa vissuta, voluta e quindi noi speriamo di riuscire perché non è facile, non è che è tutto scontato e quindi ce la metteremo tutta. C'è una poesia di Franco Arminio che in merito al Molise parlò di una bellezza serena. La poesia dice abbiamo bisogno di contadini, di poeti, di gente che sa fare il pane, di gente che ama gli alberi e riconosce il vento. Ce la commenta a proposito, la facciamo rientrare in questa giornata? Sì, la serenità del cogliere il momento della nostra vita, del nostro Molise. Noi abbiamo ancora tanta serenità che possiamo farla diventare un elemento di attrazione, un elemento di forza, perché di forze abbiamo bisogno. Soprattutto di forze giovani, giovanili. Abbiamo bisogno di affermare anche una nostra identità nell'Italia. Molise non esiste, ma è una cosa che è impossibile da pensare. E quindi Franco Arminio dice bene, perché è questo il legame profondo che abbiamo con la terra, dove nasce il pane, il pane che è la sopravvivenza. Noi oggi abbiamo sostituito dal pane il petrolio, perché in passato il pane era il petrolio dei nostri nonni. Senza pane, senza carboidrati, non si mieteva. Oggi abbiamo bisogno di petrolio per andare avanti, però c'è da dire che questo pane continua ad essere in noi. Senza pane non possiamo continuare a vivere. Dunque è una bellissima tradizione questa che rievoca proprio il passato e che ci rimette a contatto con la terra. Quindi le nostre origini, le nostre radici. Senta, un'ultima domanda. Cosa vediamo vicino al suo braccio? Ma qui c'è un manicone, è una pelle di agnello che veniva messa al braccio quando si mieteva. Serviva a ripararsi il braccio dalle spighe, perché comunque far cadere le spighe nella mietitura sul braccio significava consumare un po' questa parte del corpo, quindi di solito venivano fuori i calli. Per evitare questi calli si metteva il manicone. Diciamo che il momento della mietitura era un momento critico e si doveva fare alla svelta, si doveva mietere velocemente perché il grano rischiava di rompersi facilmente e non poteva essere più metuto. E quindi la mietitura era un momento critico, molto critico. Nessuno si doveva avvicinare al campo dei mietitori, infatti c'erano le cosiddette incanate che allontanavano gli spiriti maligni, coloro che non volevano lavorare oppure che non amavano il lavoro perché non sappiamo che nell'antichità lavorare da parte dei nobili non era una cosa accettata, quindi i nobili non lavoravano, i contadini dovevano in certo qual modo sudare e darsi da fare per trovare il cibo per i nobili. E quindi questo ci fa capire che loro si dovevano riparare da tante cose, non solo dagli spiriti maligni ma anche dai problemi che potevano nascere sul campo. C'erano i cannelli che servivano a riparare la mano dalla falce e poi diciamo anche quest'altro vestito qui, meglio questa mandera cioè che doveva coprire il corpo perché poi gli steli di grano comunque consumavano questa parte del corpo che creavano qualche problema e quindi il vestito del mietitore doveva essere tale. Luigi Michini, lei è il presidente uscente quest'anno alla 218esima edizione della festa del grano di Elsi dedicata a Sant'Anna, in onore di Sant'Anna. Come si sente in questa giornata? Mi sento molto felice a lei, però anche un po' triste perché è l'ultimo anno che facciamo la festa del grano che io faccio parte del comitato e quindi un po' di tristezza c'è, però anche giusto, è una tradizione, ci sono delle da rispettare ogni tre anni cambia il comitato e quindi oggi è una bellissima giornata, c'è una grande partecipazione del popolo di Elsi, c'è molta allegria, si rispetta la tradizione e poi il grano servirà per fare le opere d'arte che abbelliranno tutto il paese di Elsi. Quindi parliamo di trecce, parliamo di carri? Sì, esatto. La tradizione vuole che si viene a raccogliere il grano che poi è il materiale che servirà sia per l'addobbo, per fare le trecce e per fare le opere d'arte, che ripeto, il giorno di Sant'Anna sfileranno per il paese e poi saranno messe in bella mostra dove i turisti verranno ad ammirare e apprezzare le nostre bellezze. Invece come ha vissuto i tre anni da presidente? Oddio, è stato un comitato particolare perché abbiamo vissuto nel periodo del Covid, però tutto sommato siamo riusciti con la fortuna, con l'impegno da parte di tutti a portare avanti questa tradizione e a mantenerla. Vogliamo dire qualcosa al presidente entrante Antonio Valiante, oggi gli passa il testimone? Sì, la cosa importante è prima di tutto che un amico, io quando ero stato eletto all'unanimità lui sono rimasto molto contento e felice perché è una bravissima persona, ha sempre aiutato sia a noi comitati ma a tutti quanti, se prestate quindi omaggiarlo con l'elezione all'unanimità è stato veramente, lo meritava e lo merita perché si impegna sempre, porta avanti la tradizione, è uno studioso ma senz'altro faranno bene perché già vedo che il loro gruppo è molto unito e quindi senz'altro faranno una bellissima festa e gli auguro tutto il bene perché ci deve essere una continuità, noi siamo il presente, il passato è qui l'altro presidente, Mario Pirro e il futuro sono loro e quindi ecco qua, tra i vari comitati ci deve essere la continuità, ogni anno bisogna metterci uno scalino in più così chi arriva dopo si trova già con qualcosa che ha fatto l'altro comitato e tutto diventerà più facile e più bello.